buongiorno a tutti allora video un po particolare perché mi hanno dato lo spunto i miei colleghi vedendo i video che hanno fatto sono un po in arretrato con i video perché appunto ve l'ho detto ho avuto due tre giorni un po malefici e quindi non sono riuscito troppo a seguire i miei colleghi youtuber e quindi sono in arretrato un po coi video addirittura mi mettevo a vederli mentre mangiavo col cellularino lì un paio di video li ho visti mangiando visto che mangio i miei orari folli non c'era granché in televisione dico mi guardo i video comunque allora il primo video riguarda cioè la prima notiziuola è burdisso che appunto saluta il calcio e mi è venuto in mente l'episodio in cui lui era all'inter aveva la figlia che non stava tanto bene e moratti praticamente gli ha detto nicolas non ti preoccupare tu sei stipendiato da noi vai pure a seguire tua figlia stai via dalla squadra tutto il tempo che ti serve sei stipendiato da noi non c'è nessun problema quando la situazione si risolve torni a giocare per noi prenditi tutto il tempo che vuoi e mi è venuta in mente una juventus nella stessa condizione che ha un giocatore come burdisso che ha la figlia che ahimè non sta bene ha gravi problemi di salute va seguita costantemente che gli dice una roba del genere secondo me una juventus gli dice figliolo ci dispiace tanto per tua figlia ma tu hai un contratto con noi o giochi con noi o si rescinde e arrivederci grazie perché noi non abbiamo soldi da buttare e soprattutto non ci interessano i vostri problemi noi dobbiamo siamo qua per giocare ecco per farvi capire la differenza ed è per questo che probabilmente noi continueremo a vincere la metà di quello che vincerà la juve perché naturalmente abbiamo questa mentalità buonista eccetera ma è sempre stata così e continuerà a essere così scommetto che dopo questo arriveranno gli insulti dagli juventini non è vero perché qua voi siete sempre ci trattate male però penso che la juventus in una situazione del genere avrebbe si sarebbe comportato in questa maniera si è comportata così con del piero che chiedeva soltanto di rimanere alla juve anche a fare l'alta fini della situazione e giocare a gettone invece l'hanno spedito perché poteva dar fastidio la roma con toti l'ha tenuto e abbiamo visto che poi dopo sono successi tutto quello che è successo perché giustamente a 40 anni non poteva giocare sempre però lui voleva giocare sempre perché è un campione vuole giocare stesso vale per quindi per evitare disguidi la tifoseria pro contro l'allenatore l'hanno spedito e questo è avvenuto prima che toti arrivasse all'età che aveva probabilmente la seconda notizia è questo paquetà e quindi tutti già cominciano a dire sarà un top sarà un flop sarà qui sarà su sarà giù allora premesso che se l'ha consigliato leonardo vuol dire che ci ha visto delle delle potenzialità anche perché se no vista la situazione del milan che che ne dicano che loro a noi siamo già posto non avremo problemi con l'fpf perché abbiamo la già non so come loro hanno già risanato il bilancio non so come a meno che non è entrato appunto il il loro magnate di quello dei dei prestiti eccetera che ha pagato lui ma non si può sapete benissimo che una società non può utilizzare soldi del proprietario deve autogestirsi da sola con gli sponsor e tutto quanto quindi se tu guadagni 150 mila euro 150 milioni di euro all'anno e arriva al tuo boss che te ne dà 500 la uefa fa ciccini quei 500 milioni da dove arrivano da quello lì allora sapete cosa c'è per due anni voi in champions non ci andate anche se se vi qualificate o in europa lì non ci andate perché i soldi non si possono usare però loro dicono che sono a posto quindi vabbè sono affari loro non mi interessano però era per per spiegarvi che hanno pagato 35 milioni quindi vuol dire che leonardo ci ha visto delle potenzialità poi che la gente mi dica già subito ma sarà sicuramente un top no sarà sicuramente un flop non lo puoi dire perché il campionato italiano ha dimostrato che tanti campioni si sono persi nel nostro campionato hanno fatto ridere poi sono andati in altri campionati che sia l'inglese tedesco francese o l'inglese tedesco francese sì le tre principali sono quelli tedesco inglese francese e spagnolo e poi dopo facevano i fenomeni quindi vuol dire che è una questione se ti trovi bene nel nostro campionato o meno sempre stando sulla questione paquetà e dall'altra parte abbiamo il lautaro martinez quindi i due giovani uno argentino l'altro brasiliano sembra di tornare anche se oggi hanno intervistato anzi ieri hanno intervistato ausilio gli han chiesto il milan ha preso paquetà voi avete già pronto un altro giovane da da inserire lui ha risposto gli scouts hanno facendo il loro mestiere se ci sarà qualche occasione vedremo di sfruttarla ecco quindi una volta c'era il trio olandese contro il trio tedesco adesso sembra che l'inter stia puntando più sugli argentini tra virgolette e il milan sui brasiliani per di più adesso con leonardo sarà anche probabile che arriveranno tanti brasiliani al milan quindi non è che è stato tornando come prima c'era la diatriba o la sfida germania olanda una sfida argentina brasile tra inter e milan ecco erano le tre cose che volevo dirvi l'altra cosa ma è una mia cosa personale che volevo dire visto che seguendo tanti youtuber sento a se questo video non fa x visualizzazioni se questo video non ha x mi piace non lo faccio più e per i smi piace intendo sempre un certo numero non certo 5 10 o 15 un certo numero io francamente queste cose a meno che non è una cosa mia personale per esempio quando ho fatto le mie gaff quando ho fatto le barzellette eccetera che sono cose estemporanee non sono cose di attualità e dicevo se non ha 10 mi piace non lo faccio più perché vuol dire che non interessa viceversa i video che faccio su moto gp sullo sci sulla formula 1 naturalmente sul calcio sulle scommesse che lo guarda una persona che lo guardano in 10 che lo guardano in 20 in 30 in 40 io continuerò a farli per rispetto di quella persona di quelle 10 persone di quelle 20 persone eccetera eccetera a cui interessa qui piace perché non vedo dove sia il problema cioè sto facendo dei video simpatici mi diverto io a farli spero che piacciono anche a voi e quindi non vedo perché devo dire se questo video non fa x visualizzazioni non lo faccio più no a meno che non vedo lo zero se vedo lo zero più volte allora dico vabbè non viene frega un tubo a nessuno smetto ma se anche una sola persona che mi commenta e mi guarda il video io continuerò a farli sempre su quegli argomenti di cui che sto trattando detto questo chiudo perché ho parlato anche troppo ci vediamo ai prossimi video fatemi sapere cosa pensate mi raccomando sulla questione burdisso moratti juventus eccetera eccetera risposte carine e simpatiche spiritose tutto quello che volete non siate offensivi ciao